Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come sapete io, Akira e SamuGen abbiamo partecipato al campionato regionale a Preganziol Tenutosi il 31 gennaio del 2016 Abbiamo avuto buoni risultati per quanto riguarda me e SamuGen Akira così così ha chiuso 3-4 Ma comunque non vi spoiler risultati perché vi porterò, come vedete adesso, le lotte di tutti i round di Swiss Non perdiamoci in inutili ciance E andiamo a vedere un attimino che cosa è successo in questa lotta Allora, il mio avversario che si chiama Filippo Frisoni, o Ripple in arte, come vedete dallo schermo Aveva un team di Chiogre, Among Us, Cresselia, Mawai, Iveltal e Creferi Il mio team era quello delle ultime due Road to Ranked che avete visto sul canale Quindi quello di SamuGen Chiogre, Raikwaza, Cresselia, Crobat, Smirgol e Ferrothorn Ho deciso di portare i quattro Pokémon che vedete a schermo Ovvero Chiogre, Crobat, Raikwaza e Ferrothorn Perché secondo me davano la miglior copertura sul suo team Soprattutto contando che molto probabilmente avrebbe cercato di settare Trick Room Dato che la sua squadra mi pareva molto molto lenta Comunque facciamo partire il video, intanto vi spiego come ho ridato, perché ho ridato così E poi le varie mosse Allora, lui lida di Cresselia e Mawai Io ero abbastanza sicuro che qui avrebbe cercato di proteggere il Mawai o switcharlo E cercare di settare Trick Room A questo punto cosa ho detto? Mi son detto Io ho ridato con Chiogre e Crobat E ho detto vabbè, a questo punto facciamo doppio target su Cresselia Intanto qui vediamo che Mega Evolve fa... Mega Evolve, sì Archeo risveglia, diciamolo bene Queste animazioni facevano laggare tantissimo gli UDS E soprattutto fanno perdere tempo utile alla lotta, secondo me Infatti hanno alzato il time limit a 20 minuti Comunque, lui switcha Mawai Come avevo previsto io, o progegeva o switchava Mette in campo Among Us per assorbirsi, quasi si colpo Io però sapevo di dover fare doppio target su Cresselia Che è un Pokémon che spesso non porta Protect Infatti non ha Protetto e cercava di settare Trick Room ma è il mio avversario Quindi con una combo di Super Zanna e Zampillo lo tiro giù E qui già mi sono portato molto molto avanti nella partita Perché essendo andato giù poi il suo unico Trick Room Setter Costringeva a portargli in campo il suo Primal per cercare di arginare i miei Zampilli Perché altrimenti Mawai le avrebbe preso un sacco di danno Da qui ho cominciato a giocare safe senza voler rischiare niente Perché sapevo di essere avanti e non volevo sbagliare di overpreddit Infatti ho fatto Super Zanna qua su Among Us e Zampillo Non ho voluto rischiare il doppio target su Among Us Perché appunto poteva proteggere Ho detto giochiamo safe Lui infatti fa Zampillo E mi toglie tantissima vita su Crobat Ma rimane comunque in vita E qui poi switcha il Among Us per riprendersi un po' di vita E mette dentro Mawaile Io però a questo punto smetto di fare Zampillo Perché la potenza è diminuita E comincio a fare Origin Pulse Più Super Zanna su Among Us Che aveva sicuramente protetto E avrebbe resbucciato Oppure avrebbe comunque dovuto attaccare A meno che non rischiasse una doppia protetto E qui quindi tiro giù Mawaile Chiogre va sotto il 50% Quindi il suo Zampillo non fa più danno praticamente Infatti vedete quanto danno farà al mio Chiogre Che è veramente poco Tipo 35 PS Il mio Crobat va giù Ma era abbastanza programmato Metto dentro Ferrothorn Per non dargli praticamente più risposte Perché non ha risposte a Ferrothorn qua Se non Geloraggio di Chiogre Però so che Chiogre nemico È più lento del mio Chiogre Perché il mio Chiogre non è 0 speed Quindi so di essere abbastanza in montaggio Qui faccio Geloraggio su Among Us Perché sapevo che avrebbe dovuto proteggere Chiogre qua Altrimenti avrebbe perso Perché non può sporarmi il Ferrothorn Qui spora infatti il mio Chiogre Però a questo punto non ha più niente Perché io trovo Rayquaza E infatti qui Vigor Colpo su Chiogre Era per sicurezza Il turno dopo Faccio prota con Chiogre Per burnare un turno di sleep Lui fa zampillo Ma a metà vita non mi toglie molto Infatti qui avrebbe avuto più senso Farmi Geloraggio secondo me L'acerboso su Chiogre come vedete Non mi shotta Ma rimane con 4 HP No 2 HP Mi ricordavo male Vigor Colpo Per fortuna lo metto E Chiogre va giù E praticamente qui la partita è chiusa Perché l'unico che poteva farmi male Era Chiogre E Chiogre è andato giù Non poteva più Toccarmi A questo punto Lui decide di continuare A farmi l'acerboso Per tirarmi giù Chiogre E va bene Poi Io cerco di fargli Più danni possibili Con vigor colpo Ma Chiaramente Non essendo Molto efficace Non farà molti danni Vedete fa tipo Circa il 15-20% Però a questo punto Poi metto dentro Rayquaza Rayquaza Mega Evolve E tirerà giù Quella Mongoose Oltretutto Piccola curiosità Su questo Rayquaza E sul mio Chiogre Il mio Chiogre è Bold Con 2-5-2 HP Per poter resistere A vigor colpi Dei vari Peroton avversari Le regge Tutti col 6,3% Se è Brain Max Attacco E invece Il Rayquaza Questo è di Samu Gen Praticamente È Brave E quindi È molto lento Nessuno se lo aspetta E si può giocare Tranquillamente Comunque GG al mio avversario E qui mi sono portato Sull'1-0 Subito E Diciamo È stata una buona Buona partenza Per il regionale E poi continuato Con I vari match Che vi porterò Poi in settimana Settimana prossima Quindi Se questo video Vi è piaciuto Lasciate come al solito Un like Commentate E fateci sapere Se vi interessa Vedere altre lotte Commentate del genere Noi ci vediamo Con un prossimo video domani Ciao a tutti ragazzi